Sono iniziati a Tiranova Bracciolini i lavori di riqualificazione dell'area compresa tra via Vittorio Veneto, via Montegrappa e via Ticino per realizzare un nuovo parcheggio pubblico. L'investimento complessivo previsto è di 230 mila euro e si pone l'obiettivo di strutturare lo spazio delimitato dai tre marciapiedi esistenti come area dedicata alla sosta di 24 autovetture di cui due riservati a disabili e due con la predisposizione della colonina di ricarica elettrica. Previsti inoltre quattro posti per cicli e motocicli, sarà collocato anche del verde pubblico sia come aiuole che come alberi. Si tratta della riqualificazione di un'area di sosta esattamente quella ricompresa tra via Vittorio Veneto, via Montegrappa e via Ticino. È prevista la realizzazione di 24 posti auto di cui due saranno riservati alle persone disabili e due saranno provvisti di colonnine di ricarica elettrica. In più è prevista la realizzazione di quattro posti dedicati ai motocicli. È un intervento di riqualificazione che si inserisce all'interno di una variante urbanistica che ha riguardato e riguarda l'espansione della Zucchetti Centro Sistemi e quindi è un'opera che viene realizzata a scomputo degli oneri di urbanizzazione coniugando di fatto lo sviluppo del tessuto produttivo con la riqualificazione di una parte significativa e funzionale strategica del nostro tessuto urbano. Questo parcheggio peraltro sarà fruibile dai residenti ma sarà anche utile per la fruizione dell'auditore Ole Fornaci che dista pochi metri dall'area di sosta. È prevista ovviamente anche l'illuminazione e la piantumazione sia per il decoro urbano sia come sappiamo la piantumazione fondamentale per la mitigazione anche del clima e la migliore fruizione di quest'area. Allora è previsto dal cronoprogramma che i lavori procedano fino al perdono. Durante il perdono l'area, anche se i lavori non saranno ultimati, sarà fruibile perché è il parcheggio destinato ai veicoli condotti dalle persone disabili e quindi è estremamente importante che sia in funzione, dopodiché terminata la manifestazione i lavori riprenderanno e verranno definitivamente ultimati.